Eccoci qua con Erika, siamo nel loro partita contro Adro Monticelli, una sconfitta pesante e probabilmente anche un passo indietro rispetto alle ultime due gare. Cosa dici Erika? Sì, penso che purtroppo non è stata una gara come pensavamo e abbiamo preparato, però i margini di miglioramento ci sono. Su tanti aspetti secondo me la squadra è migliorata, in altri abbiamo un po' perso, poi di fronte abbiamo una grande squadra, ma penso che potremmo fare grandi cose. Secondo me loro erano solidissimi, un gioco essenziale, hanno giocato pochissimo al centro, tanti palloni in banda, dove hanno due atlete, possiamo dirlo anche forse di categoria superiore, perché Stefania Pistolato la come chiamo, e poi Libalì che ha un'esplosività incredibile ci hanno messo un po' in difficoltà. Sì, noi abbiamo preparato la partita soprattutto su di loro, sapendo anche le potenzialità, però comunque sono forti. In tanti momenti abbiamo anche retto, l'abbiamo murato, l'abbiamo difeso, però molto probabilmente non è bastato, quindi lavoreremo per migliorare in tutto. Prossima settimana il derby con Castelglazzano, che è sempre una partita particolare, andiamo in trasferta, tante amiche probabilmente, ci troveremo, quindi sarà anche bello giocarlo, probabilmente la palese sarà piena. Sicuramente, sarà un bel derby, poi i derby sono sempre derby. Esatto. Grazie ad Erika e ci vediamo la settimana prossima.